Grazie Presidente. Noi ricordiamo oggi un uomo e un leader politico che senza dubbio è stato per lungo tempo tra i principali protagonisti della vita pubblica di questo Paese. Un uomo politico che è stato anche per la sinistra italiana non solo un avversario ma il principale avversario nell'arco di molti decenni. E' giusto farlo naturalmente ma seppure penso che anche il giudizio più critico debba sempre pagare un tributo al turbamento della morte non credo sia utile da parte mia limitarmi al solo cordoglio e alle condoglianze alla sua famiglia e alla sua comunità politica che pure ovviamente rivolgo sentitamente a nome mio e del gruppo che rappresento. Farò oggi anche qualche considerazione più politica a maggior ragione perché ritengo e lo dico senza ipocrisia e spero con serena chiarezza che non sia stato affatto giusto e nemmeno accettabile trasformare i funerali di un leader dichiaratamente di parte la figura più divisiva forse di ogni epoca della Repubblica in una cerimonia di santificazione quasi pagana usata per celebrare ed esaltare attraverso il leader scomparso i suoi eredi politici oggi al governo. E' per questa ragione che abbiamo considerato inopportuna la proclamazione del lutto nazionale. La storia la scrivono i vincitori come sempre eppure io penso che cose del genere non debbano succedere in una democrazia compiuta come penso non possa succedere come invece è stato che la televisione pubblica si sia piegata così clamorosamente ad una narrazione di parte suggerita e alimentata dalle leve del potere politico. Da Silvio Berlusconi ci divideva tutto e io non voglio nascondere ora nel momento di un lutto che pure ovviamente rispetto quello che ho sempre pensato e che ho sempre detto. Ci divideva tutto perché consideravamo e consideriamo Berlusconi portatore di un disegno politico regressivo, un disegno potente e seduttivo fondato sulla cultura del mercato che ha egemonizzato, trasformato la società italiana, chiudendo definitivamente l'epoca delle conquiste sociali, dei movimenti del 68. Avevamo visioni della società opposte. Berlusconi credeva nelle magnifiche sorti del mercato e contrastava qualsiasi forma di regolamentazione, ma io credo che nell'assoluta libertà del mercato non ci sia invece nessuna saggezza e senza un intervento regolatore a pagare i prezzi sono sempre i più deboli. Avevamo concezioni della politica totalmente divergenti. Berlusconi, abilissimo comunicatore, ha svolto un ruolo impareggiabile nel potenziale dell'aspetto pubblicitario e propagandistico della politica. Anche questo ci divideva. Quel modello, egemone perché rapidamente adottato anche da molti dei suoi avversari, a nostro parere ha grandemente impoverito la cultura politica di tutti, della destra come della sinistra. Questa distanza incolmabile non ci impedisce tuttavia di riconoscerne la sua centralità, non solo come imprenditore ma anche come leader politico. In questi giorni molte figure che pure lo avevano combattuto hanno riconosciuto le sue doti umane, la capacità di empatia per esempio, e hanno fatto bene perché neppure la più radicale contrapposizione dovrebbe accecare e spingere a demonizzare l'avversario. Berlusconi ha creato una destra politica che prima di lui non aveva mai avuto ruoli rilevanti, la destra che oggi è al potere del nostro paese. Non è stata e non è la destra liberale nella quale molti all'inizio hanno sperato. Non poteva esserlo, perché non si può svolgere contemporaneamente il ruolo dell'uomo di affari che tutela il proprio interesse innanzitutto e quello del politico liberale. E sino all'ultimo Silvio Berlusconi è rimasto prima di tutto un uomo d'affari, senza che il suo conflitto di interessi peraltro fosse risolto, anche per responsabilità della sinistra politica. E proiettando questa sua caratteristica sul mutamento sociale e democratico del paese. Ma la sua destra non è stata tuttavia animata da uno spirito sovranista. Non era comunque poco e io mi auguro davvero che i suoi eredi non lo tradiscano proprio su questo punto. Sarebbe ipocrita smussare adesso le critiche che gli abbiamo sempre rivolto, i legami opachi, i rapporti a volte innominabili, le amicizie imbarazzanti, la legittimazione della mercificazione dei corpi delle donne. E sarebbe per me sbagliato non sottolineare che oggi l'Italia non è certo un paese migliore di 30 anni fa. Ma sarebbe per me ipocrita anche non vedere che spesso gli avversari lo hanno combattuto con argomenti che hanno fatto a loro volta danni alla nostra cultura politica. Invece di contrastare le politiche di Berlusconi e della sua destra, si è scelta per troppo tempo una scorciatoia, peraltro inefficace. Forse perché nella pratica si adottavano invece le sue stesse formule politiche, subendo l'egemonia di quel pensiero liberista che ha goduto di un sostegno trasversale ben oltre i confini delle sole destre politiche. Ci siamo raccontati che l'affermazione della destra fosse conseguenza solo delle capacità seduttive del suo leader o del controllo delle sue televisioni. Tutte cose sia chiaro che io penso abbiano giocato effettivamente un ruolo, ma Berlusconi ha dato anche risposte, per noi sbagliate naturalmente, ad esigenze che invece erano reali. Senza quella sintonia non sarebbero bastate né le doti di comunicatore e nemmeno le televisioni. E allora io penso che il compito di chi lo contrastava a viso aperto avrebbe dovuto essere sempre quello di non limitarsi all'anatema, ma di capire quelle domande per offrire diverse risposte e anche opposte. Infine, un'ultima considerazione e ho finito. Berlusconi, questo credo gli vada riconosciuto, non era un imprenditore della paura, uno dei tanti cioè che montano emergenze inesistenti per poi lucrare politicamente sui timori irrazionali. La sua propaganda era opposta, faceva leva sulla speranza e sull'ottimismo, anche se questo spesso strideva col paese reale e le sue condizioni. Ma in ogni caso raccoglieva consenso non agitando lo spettro di un futuro peggiore, ma promettendone uno migliore. E questa, dal mio punto di vista, è una differenza non certo secondaria tra la sua destra e quella oggi al governo. Perché la politica deve saper far leva sulle speranze e sui sogni e non invece sulle paure e sugli incubi. Grazie.